Lì allo Zelig è diventato un ambiente stupendo per me, infatti debuttare proprio lì allo Zelig è una soddisfazione enorme. Dopo il successo riscosso allo Zelig di Milano e al Teatro Michelangelo di Modena, Chiara Nicito arriva in Sicilia con il suo spettacolo Cammela e il gruppo delle mamme. Lo show è in programma oggi al Teatro Ambasciatori di Catania e domani al Teatro Orione di Palermo, attrice e cantante originaria di Catania, Chiara è mamma anche nella sua vita privata, proprio come Cammela, il personaggio con il quale è conosciuta sul web, personaggio al quale è legato l'ormai famosissimo gruppo delle mamme. Carmela, o meglio come ama puntualizzare lei, Cammela, con due M come mammellata, è una mamma siciliana popolare e semplice, che cresce due figli, Santino di 9 anni e Agatuccia di 2, assieme al marito Placido. Attraverso monologhi, musica e parodie, Chiara Nicito con questo spettacolo porta il pubblico nel suo mondo di comicità mai volgare e sempre coinvolgente, spaziando dalla scuola ai social con il gruppo delle mamme, dalla vita familiare al rapporto con la società, concludendo lo spettacolo senza maschera, per fare conoscere al pubblico colei che si nasconde dietro questo personaggio di successo, Chiara, che è pronta a fare il pieno di applausi anche nelle tappe siciliane della sua tournée. Nello spettacolo io veramente ho cercato di riversare un po' tutte le gioie e frustrazioni dell'essere mamma e quindi ho cercato di mettere dentro vari aspetti, ma non solo dell'essere mamma, ti dirò, c'è anche tutto un momento in cui si parla dell'essere moglie, quindi del rapporto col marito, veramente con delle gag veramente esilaranti sugli uomini in generale, la gente si è divertita molto in quella parte di spettacolo, Grazie a tutti.